La Roland's Academy presenta venerdì 28 giugno alle ore 20 e 30 presso il Castello Angioino Aragonese l'arte della danza sportiva, 150 minuti di puro spettacolo con show e coreografie di danze standard latine e caraibiche presentate dai ballerini di alto prestigio che nel loro 32esimo anno di attività hanno riconquistato il podio nelle finali nazionali, open mondiali e campionati italiani FIDS, CONI, ospiti della serata Vito Coppola e ONA, OINAS Vito Coppola è pluricampione italiano da 16 anni, attuale campione italiano assoluti 2019 ed Asian World Dance Sport Festival Osaka in Giappone il 16 giugno 2019